Messieurs, signori, ecco, allora, benvenuti, sedeteli, prene place, have a seat, ok, please, can we sit, can we sit, please, ok, bene, allora, benvenuti a questa seconda giornata del convegno, abbiamo il piacere di avere come speaker e poi come modellatrice, come direttrice della tavola rotonda, la professoressa Emilia Mezzetti, che è professoressa di geometria, geometria algebrica, a Trieste, ecco, e ci parlerà su un argomento veramente molto classico, cioè le questioni di terzo grado. Benvenuta. Grazie, grazie Francesco, grazie agli organizzatori per l'invito. Grazie a tutti. a partire dal Rinascimento, quindi cercherò, insomma, di un po' di raccontarla e vedere poi, appunto, quali sono le conseguenze. Ecco, quest'ora l'abstract e cominciamo. Allora, quindi, quello di cui voglio parlare sono le equazioni di terzo grado, che appunto furono risolte nel 1500 in Italia, Italia settentrionale, e quindi voglio un po' prima premettere qual era la situazione, cioè che cosa si sapeva, invece, delle equazioni di grado minore di tre, di primo grado e di secondo grado. Allora, naturalmente, le equazioni di primo grado erano state considerate fin dall'antichità e si trovano documenti che parlano, naturalmente, di esempi, di soluzioni di primo grado fin nei reperti trovati a Ebla, quindi 2000 a.C., più di 2000 a.C., presso gli egizi, i babilonesi. Un pochino più così articolata è la storia delle equazioni di secondo grado. Già presso gli egizi si trovano tracce di risoluzione di equazioni di quelle che vengono chiamate pure, cioè del tipo x quadrato uguale a 5, quindi sostanzialmente metodi per estrarre la radice quadrata di un numero naturale. Nei babilonesi, insomma, reperti dei babilonesi, si trovano invece esempi di risoluzione di equazioni di secondo grado col metodo del completamento del quadrato, che è sostanzialmente il metodo che usiamo ancora oggi. Dello stesso tipo, poi, sono metodi risolutivi che si trovano presso i greci, in particolare Erone, poi l'aritmetica di Diofanto. Diofanto visse nel III secolo d.C., e lo dico adesso perché poi tornerà fuori. L'opera, l'aritmetica di Diofanto, era praticamente sconosciuta in Europa e la prima traduzione in francese fu quella di Bachelet, che è quella poi su cui... Che l'esse fermà, cui poi ebbe così l'idea del suo famoso teorema. Però una traduzione non pubblicata era stata fatta nel Cinquecento, già da Bombelli, e questo ebbe influenza su quello di cui parleremo. Arrivando poi alla matematica araba, allora ieri Bartocci ci ha detto che in realtà Al-Quarizmi non era arabo, era persiano, però scriveva in arabo, e appunto scrisse l'algebra, che insomma vorrebbe dire sostanzialmente il completamento proprio. Cioè la parola algebra sembra, voglia dire, ripristinare, completare. E viene anche tradotta la regola della cosa, l'incognita, quella che noi chiamiamo incognita, la X veniva chiamata la cosa. Allora, nell'algebra, Al-Quarizmi, si occupa delle equazioni di secondo grado e le classifica in sei tipi, adesso vedremo in che senso sono sei tipi, e poi per ogni tipo dà delle regole risolutive basate appunto sul metodo del completamento del quadrato. Perché sei tipi? Perché le equazioni che venivano considerate a quei tempi avevano sempre come coefficienti numeri interi positivi. e quindi le equazioni del tipo che consideriamo noi AX quadrato più BX più C uguali a zero non venivano scritte in questo modo, ma appunto si distinguevano tanti casi a seconda che appunto i coefficienti, dal nostro punto di vista, fossero positivi o negativi. e quindi in questa lista, vedete, ci sono numeri A, B, C che andavano pensati come appunto numeri positivi, per lo più interi, in qualche caso razionali. Ecco, quindi nell'algebra Al-Quarizmi considera questi tipi di equazione per ogni caso dà delle regole risolutive, diciamo. e venivano chiamate con i nomi che vedete. Quindi l'incognita era chiamata la cosa. Il quadrato dell'incognita veniva chiamato il censo. Quindi l'equazione che si può scrivere come AX quadrato uguale BX veniva chiamata l'equazione del tipo Censi uguali a cose. A Censi uguali a B cose. e così via AX quadrato uguale a C Censi uguali a numero A Censi uguali a C numeri e così via cose uguali a numeri questo era il caso in cui in realtà l'equazione era di primo grado e così via. Ecco, allora passiamo al terzo grado. Naturalmente, fin dall'antichità a casi particolari di equazioni di terzo grado venivano considerate ma però appunto casi particolari esempi di equazioni. Dopo Al-Quarizmi Omar Kajam, anche lui persiano è il primo che si occupa delle equazioni di terzo grado diciamo in maniera sistematica e come Al-Quarizmi aveva fatto per quelle di secondo grado da una classificazione elenca 14 casi in questo caso di equazioni di terzo grado sempre con lo stesso principio che i coefficienti devono essere tutti numeri interi positivi. però a differenza di Al-Quarizmi che dà per ogni tipo un metodo di risoluzione Al-Qayam non dà una regola per la risoluzione ma dà per esempio delle soluzioni di tipo geometrico andando a rappresentare su un piano delle intersezioni di curve che rappresentavano appunto le soluzioni dell'equazione però non dà una regola algebrica risolutiva e riteneva che non fosse probabilmente imminente la risoluzione infatti scrive forse uno di quelli che verranno dopo di noi riuscirà a trovare la regola. E allora adesso passiamo all'Italia del XIII secolo e alle scuole d'Abbaco anche di questo abbiamo già sentito ieri qualche cosa da parte di Claudio Bartocci e insomma grazie all'aumento degli scambi alla pratica mercantile c'è la necessità di saper fare i conti quindi i mercanti i commercianti hanno bisogno di saper appunto praticamente fare i conti legati ai loro commerci e cominciano a diffondersi queste scuole d'Abbaco in cui appunto si insegnano le operazioni contabili legate appunto ai problemi che nascono dai commerci e dalla pratica mercantile questo in Italia queste scuole d'Abbaco si diffondono a partire dal XIII secolo il più famoso abbachista maestro d'Abbaco è sicuramente Fibonacci che scrisse il Liberabaci e com'era la struttura di questi libri che cosa insegnavano i maestri d'Abbaco insegnavano a risolvere tanti problemi particolari tanti problemi pratici e non si occupavano di problemi del tipo di quelli considerati appunto dai matematici persiani che abbiamo nominato ma quindi non cercavano metodi generali di risoluzione ma cercavano appunto di dare un grande repertorio in modo da creare una mentalità di tipo mnemonico analogico e non tanto logico deduttivo in modo che appunto poi questi loro allievi quando si fossero trovati nella situazione di risolvere dei problemi avessero degli esempi del in modo da risolvere questi problemi per analogia e adesso entra in campo il primo dei protagonisti della nostra storia e cioè il Tartaglia Nicolò Fontana detto Tartaglia era un maestro d'Abbaco nato a Brescia nel 1499 soprannominato Tartaglia perché forse conoscete questa storia terribile nel 1512 ci fu il famoso sacco di Brescia Brescia che era sotto la dominazione francese e si era ribellata ai francesi e i francesi ebbero una reazione molto dura e quindi repressero questa rivolta non guardando in faccia nessuno e molti tra cui la famiglia di Tartaglia che era un bambino a quel tempo vedete 13 anni si erano rifugiati nel duomo di Brescia e i francesi senza nessun ritegno diciamo entrarono nella chiesa e con le armi in pugno insomma domarono questa rivolta in particolare Tartaglia fu colpito con una spada sulla testa e riportò una ferita molto grave che gli lasciò poi un danno permanente sul palato e in seguito a questo poi lui rimase balbuziente e per quello fu soprannominato il Tartaglia infatti poi vedete qua c'è questa immagine che riproduce la copertina del libro scritto da Tartaglia acquisiti e t'invenzioni diverse di cui parlerò più avanti in cui poi lui racconta sia la la storia della sua vita sia poi tutta la storia della della sua risoluzione delle equazioni di terzo grado insomma si lasciava sempre questa grande barba per nascondere le cicatrici di queste ferite insomma nonostante questa esperienza terribile Tartaglia divenne un maestro d'abaco molto affermato era una sicuramente una persona molto intelligente molto acuta e quindi si afferma come maestro d'abaco a Verona e a causa appunto della fama che aveva viene interpellato da altri maestri d'abaco e viene sfidato in disfide matematiche ecco a quei tempi era molto diffusa questa questa pratica diciamo delle disfide matematiche cioè una persona qualunque poteva sfidare un'altra persona a risolvere dei problemi quindi gli lanciava una sfida la persona sfidata poteva rispondere con altri problemi quindi poi venivano date le risposte alla fine c'era un vincitore oppure in caso di dubbi si ricorreva ad una pubblica di sfida in cui i due contendenti insomma davanti al pubblico che faceva il tifo insomma cercava di far vedere che era il più forte quindi tartaglia veniva sfidato spesso in questa maniera e queste disfide avevano delle regole molto ben diciamo consolidate quindi appunto lo sfidante mandava alcuni problemi c'era un termine stabilito entro cui lo sfidato poteva rispondere eventualmente proporre ulteriori problemi il pubblico dibattito e però c'era una regola importante e cioè che nessuno dei duellanti poteva avanzare problemi che gli stessi non fosse capace di risolvere ecco in realtà questa regola in alcuni casi poi viene violata ed è proprio da questo che ha origine tutta la storia nel 1530 tartaglia viene sfidato da un zuanne dettonini da coi che gli propone due quesiti che adesso vedremo che si possono dal nostro punto di vista tradurre in equazioni di terzo grado allora tartaglia che sapeva della difficoltà delle equazioni di terzo grado del fatto che non ci fosse una regola e tra l'altro non l'ho scritto Luca Pacioli che ha stato un altro matematico maestro d'abaco nella sua summade aritmetica aveva scritto in maniera non del tutto chiara ma che insomma riteneva che forse non si potessero risolvere insomma che non si potessero trovare delle regole risolutive e quindi insomma tartaglia è così incuriosito da questa di sfida e allora vediamo quali sono i problemi quali sono i quesiti posti da Tonini De Coy sono riportati nel nel libro di cui dicevo quesiti e invenzioni diverse di cui qua ho riportato una pagina forse non si vede molto nitidamente l'algebra era a quei tempi un'algebra retorica cioè parlata non si usavano i simboli e quindi il primo dei quesiti era formulato in questo modo trovati mi trovati me un numero qual moltiplicato per la sua radice più tre mi faccia cinque e il secondo similemente trovati me tre numeri ma che il secondo sia due più del primo e che il terzo sia due più del secondo e che moltiplicato il primo sia il secondo e quel prodotto sia il terzo faccia mille sia vuol dire volte ecco allora il primo problema si può tradurre nella prima equazione che ho scritto cioè questo numero lo possiamo interpretare come x quadrato la sua radice è x e quindi troviamo l'equazione x quadrato per x meno tre uguale a cinque diciamo in termini moderni quindi terzo grado mentre la seconda si traduce in x per x più due per x più quattro uguale a mille ecco allora Tartaglia non era in grado di in quel momento di risolvere queste equazioni rispondere a questi quesiti però si incuriosisce e quindi evidentemente comincia a pensare perché se Tonini da Coy gli aveva posto questi quesiti doveva voler dire che lui in qualche modo doveva avere la soluzione quindi doveva avere un metodo per risolvere queste equazioni però in quel momento non era chiaro e di questo appunto parla poi Tartaglia nel suo libro ecco poi successivamente dopo un paio d'anni a Venezia nel frattempo Tartaglia si era trasferito a Venezia e sfidato di nuovo e questa volta da Antonio Maria Fior un maestro d'abbaco che proveniva da Bologna e Fior propone a Tartaglia questa volta addirittura 30 problemi e Tartaglia questa volta li risolve tutti in meno di due ore e i problemi proposti da Fior si possono tutti ricondurre a quello che a quel tempo veniva chiamato il capitolo de Cosa e Cubo è ugual a numero cioè x alla terza per noi più Px uguale a Q x Cubo il Cubo è la terza potenza della cosa quindi più cose uguale a numero e quindi il fatto che Tartaglia risolva questi problemi così rapidamente fa capire che effettivamente Tartaglia sapeva come fare a risolverli quindi aveva la formula risolutiva in effetti Tartaglia scrive a Tonini de Coy con cui comunque era rimasto in contatto dicendogli che proprio otto giorni prima aveva scoperto la regola generale quindi è una scoperta straordinaria perché fin dai tempi antichi era un problema aperto come diremmo noi e quindi per la prima volta qualcuno si sembra rendersi conto della soluzione e Fior adesso qua non ho scritto tutto Tartaglia a sua volta propone dei problemi a Fior e Fior non li sa risolvere ha problemi che anche si possono esprimere con equazioni di terzo grado quindi poi Fior ammette anzi si vanta di aver avuto la regola risolutiva 30 anni prima da un gran matematico ma non dice chi è e però Tartaglia si rende conto che in realtà Fior non l'ha capita veramente bene insomma questa regola e Tartaglia comunque si rifiuta di rivelare la sua formula a Tonini De Coy e anche i testi e le risoluzioni dei problemi ecco allora questo è un aspetto interessante cioè a quei tempi non si usava pubblicare i propri risultati questo risultato di Tartaglia che insomma noi oggi considereremmo un risultato importantissimo da pubblicare immediatamente lui non lo voleva pubblicare e così era appunto l'usanza perché perché chi invece era capace di risolvere dei problemi si teneva ben stretta la soluzione per usarla in occasione di sfide di situazioni in cui poteva far vedere la propria abilità e questo poi serviva per avere diciamo dei contratti delle posizioni retribuite e adesso entra in gioco il secondo personaggio che è Gerolamo Cardano Cardano era nato nel 1501 a Pavia un personaggio molto particolare era un affermato brillante medico però era studioso anche di molte altre cose in particolare di matematica e poi un musicologo astrologo e così via un personaggio piuttosto vanitoso aggressivo un po' rude però molto abile parlatore anche una persona molto intelligente e lui stava in quel periodo preparando un libro che poi effettivamente uscì la pratica aritmetica in cui appunto trattava argomenti di aritmetica di algebra e di geometria e cercava anzi di compendiare quello che era noto fino a quel momento sulle equazioni di primo e di secondo grado e Tonini D'Accoi che è un po' un deus ex machina di questa vicenda parla a Cardano di in realtà sfida Cardano con quesiti in cui compaiono equazioni di terzo e quarto grado e gli parla di Tartaglia quindi fa conoscere a Cardano questo personaggio di Tartaglia è il fatto che aveva risolto queste equazioni di terzo grado naturalmente Tonini D'Accoi sapeva che Cardano sarebbe stato molto interessato a sapere come Tartaglia aveva fatto e e quindi in effetti Cardano contatta Tartaglia e gli chiede di fargli avere la formula ma Tartaglia rifiuta se la voleva anzi tenere ben stretta e quindi Cardano insiste e nel libro di Tartaglia acquisiti ed invenzioni diverse è riportata con una grande dovizia di particolari devo dire una lettura molto anche divertente questa corrispondenza tra Tartaglia e Cardano insomma Cardano con toni così a volte di di lusinga a volte minacciosi insiste con con Tartaglia per avere questi questi problemi almeno i problemi e possibilmente le soluzioni e Tartaglia sempre rifiuta e finché Cardano invita Tartaglia a Milano e probabilmente anche gli fa delle promesse di introdurlo così negli ambienti importanti di Milano insomma insiste per avere questa formula e giura di non divulgarla e insomma a un certo momento Tartaglia cede e dà la soluzione a Cardano sotto forma di una poesia la famosa poesia algebrica in cui sono contenute le regole risolutive per tre tipi di equazioni di terzo grado quelle che ho scritto cioè il tipo cubo e cose uguali a numero cubo uguale cose più numero e cubo meno numero uguale a cose che sono sostanzialmente dal nostro punto di vista le equazioni di terzo grado in cui non c'è il termine secondo grado ecco allora questa è la poesia che Tartaglia lascia a Cardano e poi subito riparte e probabilmente subito pentendosi di aver ceduto alle insistenze di Cardano e allora vediamo adesso la leggo e la commento poi ne parliamo ancora di più quando che il cubo con le cose appresso si agguaglia a qualche numero discreto trovano due altri differenti in esso allora che cosa vuol dire il cubo con le cose appresso sarebbe x al cubo più px cubo e cose si agguaglia a qualche numero discreto uguale a q dove q è un numero naturale trovano due altri differenti in esso in esso che è il q il numero discreto quindi viene scritto come differenza di altri due u meno v quindi vengono introdotte sostanzialmente due nuove incognite u e v la cui differenza è uguale al numero discreto q e poi terrai questo per consueto che l'or prodotto sempre sia uguale al terzo cubo delle cose netto allora questo si dovrebbe tradurre nel fatto che il prodotto uv sia uguale al p che è il coefficiente delle cose p quindi p alla terza p terzi alla terza allora in realtà come è scritto non è scritto proprio giusto perché se uno cerca di interpretare quello che è scritto vorrebbe dire p alla terza fratto tre però insomma la soluzione in realtà è p terzi alla terza cioè una piccola diciamo inesattezza nella formula di tartaglia e il residuo il residuo poi suo generale degli loro lati cubi ben sottratti varrà la tua cosa principale quindi alla fine la tua cosa x quindi la soluzione è la differenza dei due lati cubi quindi delle radici cubiche di u e di v ben sottratti e questo ben sottratti vuol dire che li devi sottrarre in modo da togliere al maggiore il minore insomma in modo da trovare un numero positivo quindi differenza di due cubi e qua è da tenere presente che a quei tempi soluzioni delle equazioni dovevano essere numeri positivi cioè le radici negative delle equazioni a quei tempi venivano chiamate le radici false fichte non erano considerate interessanti perché queste equazioni nascevano sempre in un contesto molto pratico quindi la soluzione doveva avere un significato di numero ecco questo era il primo caso poi la poesia va avanti nel secondo decodesti atti quando che il cubo restasse lui solo quindi il caso in cui da una parte c'è il cubo e dall'altra parte gli altri due termini tu osserverai questi altri contratti del numero farai due tal partavolo che l'una in l'altra si produca schietto e il terzo cubo delle cose in stolo delle quali poi per comun precetto otorrai gli lati cubi insieme gionti e cotal somma sarà il tuo concetto insomma l'idea qua è che anziché fare la differenza invece di esprimere la x come u meno v si esprime come u più v e per il resto insomma la situazione è analoga e il terzo poi di questi nostri conti si esolve col secondo se ben guardi che per natura sono quasi congiunti cioè il terzo caso ha la soluzione analoga alla seconda e poi conclude questi trovai et non con passi tardi nel 1504 e 30 con fondamenti ben salve gagliardi nella città dal mar intorno centa cioè a venezia non con passi tardi cioè piuttosto rapidamente ecco e quindi questa è la poesia la filastrocca che tartaglia manda da materialmente a cardano e cardano si mette subito al lavoro e interpreta la filastrocca capisce quello che vuole dire e poi verifica la formula in molti casi e però presto si accorga che in certi casi la formula non funziona allora vediamo adesso dal nostro punto di vista cosa possiamo come possiamo riscrivere guardiamo il primo caso allora l'equazione è x al cubo più px è uguale a q poi scriviamo u meno v uguale a q e u v è uguale p terzi alla terza quindi qua ci siamo ricondotti a risolvere un'equazione di secondo grado cioè u e v ne conosciamo la differenza e il prodotto quindi abbiamo quella che si dice la risolvente cubica che può essere scritta nel modo che vedete quindi si risolve equazione di secondo grado la sapevano risolvere benissimo loro prendono considerano però soltanto la soluzione u positiva quindi q mezzi più la radice di q quadrato quarti più p alla terza fratto 27 allora in questo caso vedete p e q sono numeri positivi c'è la somma sotto radice c'è un numero positivo non c'è nessun problema si può fare e poi si calcola v che è meno q mezzi più la radice quindi sotto radice c'è questo q quadrato quarti più p alla terza fratto 27 che è quello che chiamiamo il discriminante dell'equazione e la x quindi sottraendo bene facendo la differenza delle due radici cubiche è il numero che vedete scritto là come differenza di due cubi e risulta una radice positiva dell'equazione quindi qua nessun problema però andiamo ancora un pochino avanti dopo vediamo il secondo caso dove invece si creano i problemi allora dal nostro punto di vista ed è quello che ancora oggi si fa l'idea è quella di cercare di quando si vuole risolvere quelle equazioni cercare di cercare di esprimere la possibile soluzione come differenza del tipo y-z quindi riconducendosi al caso di due incognite al posto di una e in questo modo però avendo a disposizione diciamo un grado di libertà quindi la possibilità di imporre a y e z un'ulteriore condizione che sia adeguata opportuna in modo da facilitare il conto che si deve fare allora scrivendo x come y-z x alla terza più px svolgendo i conti si riconduce all'espressione allora questa scritta qua vedete aiuto adesso qua sono andato avanti ecco y alla terza meno z alla terza più p-3 y-z per y-z uguale a q e quindi l'idea diciamo furba è di imporre la condizione che y-z sia uguale a p-3 in modo da annullare questo coefficiente e quindi ricondursi a un sistema di questo tipo y scusatemi qua ecco y alla terza meno z alla terza uguale a q y-z uguale p-3 cioè è scritto in maniera un po' diversa rispetto alla poesia di Tartaglia però questa probabilmente era l'idea cioè quello che si pensa è che probabilmente Tartaglia inizialmente avesse in mente di ridursi come nel caso dell'equazione di secondo grado a un cubo uguale a un numero quindi completare il cubo e vedendo che non ci riusciva probabilmente provò a cercare soluzioni del tipo differenza di radici cubiche o somma di radici cubiche ecco ecco allora se vogliamo risolvere quel questo sistema quindi per prima cosa eleviamo al cubo la seconda equazione in questo modo non troviamo un'equazione equivalente però insomma abbiamo un'implicazione e poi possiamo risolvere il sistema prendendo due nuove incognite che sono y alla terza e z alla terza e quindi poi insomma ci riduciamo al caso che abbiamo visto allora invece adesso il secondo e il terzo caso della trattati nella poesia di Tartaglia queste formule poi sono note come formule cardaniche perché poi adesso vedremo e in questo caso invece si cerca la soluzione come somma di due nuove incognite y e z e questa volta alla fine si arriva all'espressione che vedete dove però sotto radice abbiamo il discriminante che è una differenza siccome q e p sono tutti e due positivi può capitare benissimo che questo delta sia negativo e che quindi sotto radice ci sia un numero negativo e che quindi a quel tempo non aveva significato e questo caso cardano lo chiama casus irriducibilis e cardano scrive a Tartaglia chiedendogli spiegazioni del fatto che in realtà la sua formula non sempre funziona ma Tartaglia non risponde perché in realtà non sa la risposta allora come va avanti la storia cardano insieme con il suo allievo Ludovico Ferrari cercano di capire come si può girare il problema oltretutto come vedremo nel casus irriducibilis sotto radice nella formula compare un numero negativo però molto spesso in questi casi anzi sempre la soluzione ha soluzioni ha soluzioni reali e anche positive quindi non è una situazione confrontabile con quella delle equazioni di secondo grado in cui nella formula risolutiva possiamo effettivamente trovarci ad avere una radice di un numero negativo però questo non era considerato un problema a quei tempi perché semplicemente si diceva che l'equazione non aveva soluzioni nel caso delle radici complesse coniugate non aveva soluzioni e qua la situazione è molto diversa perché non è che l'equazione non ha soluzioni però invece è che la formula non funziona cioè non può essere applicata nonostante che l'equazione abbia soluzioni quindi Cardano e Ferrari ci pensano ci lavorano e nel 1542 vanno a Bologna a parlare con Annibale della Nave era un matematico dell'università di Bologna che era anche genero di un di un altro matematico morto 15 anni prima famoso matematico Scipione del Ferro e Annibale della Nave parlando con Cardano e Ferrari si ricorda di un tacquino del suo ocero e lo guardano insieme con Cardano e Ferrari e in questo tacquino c'è esattamente la stessa formula risolutiva trovata da Tartaglia e quindi in realtà Del Ferro aveva a suo tempo anche lui risolto l'equazione nello stesso mondo di Tartaglia questa soluzione anche lui se l'era tenuta abbastanza per sé grazie però con alcuni non molto prima di morire ne aveva parlato in particolare con Antonio Maria Fior che quindi aveva il metodo risolutivo anche se in realtà sembra che insomma non lo sapesse bene usare a quel punto Cardano si ritiene libero dal giuramento erano passati ormai vari anni lui aveva nel frattempo pubblicato questo trattato di aritmetica in cui non aveva fatto cenno delle equazioni di terzo grado e insomma il problema Tartaglia non era stato il primo a risolverlo quindi Cardano ritiene di essere libero dal giuramento e lui invece pubblica il risultato quindi Cardano è più moderno da questo punto di vista e scrive questa opera Lars Magna di cui qua ho riportato la copertina e questo volume in cui illustra e discute le formule risolutive delle equazioni di terzo grado e anche delle equazioni di quarto grado che nel frattempo il suo allievo Ludovico Ferrari aveva risolto ecco questo Lars Magna l'Ars Magna di Cardano è un punto molto importante nella storia della matematica e si generalmente si fa risalire alla pubblicazione dell'Ars Magna all'inizio dell'algebra moderna ma non soltanto anche della diciamo della scienza moderna quello nel periodo in cui Copernico anche lui pubblica la sua opera era il 1543 e Vesaglio medico studioso di medicina anche porta contributi fondamentali alla medicina con appunto le autopsie insomma il sezionamento di cadaveri che segnano l'inizio della medicina moderna quindi ci sono in quel momento in Italia questi segni importanti di un inizio di una nuova scienza cosa c'è nell'Ars Magna allora intanto Cardano distingue e discute 13 casi di equazioni di terzo grado sempre con quella attenzione ai coefficienti che devono essere numeri interi positivi in alcuni casi numeri razionali positivi le formule risolutive che lui dà forniscono come soluzioni numeri razionali o anche irrazionali contenenti radicali quadratici e cubici in alcuni casi anche soluzioni negativi cioè considera anche queste soluzioni fichte però appunto non sempre queste formule sono applicabili ci sono due casi in cui appunto succede quello che abbiamo visto prima comunque osserviamo che le radici quadrate che considera sono sempre prese positive e Cardano considera comunque tutte le possibili equazioni di terzo grado quindi anche con il coefficiente del quadrato diverso da zero e però realizza e spiega che ci si può ricondurre ad avere con un cambio di variabile anche c'è questa idea del cambio di variabile a un'equazione in cui x quadrato ha coefficiente nullo quello che veniva chiamato un'equazione depressa Cardano è consapevole che in alcuni casi le equazioni hanno altre soluzioni oltre a quella data dalla formula e però c'è questo problema insomma di saper manipolare questi radicali doppi cubici ma non soltanto tra l'altro quelli in cui compare sotto radicale un discriminante negativo ma anche per esempio vi faccio vedere questo esempio se prendiamo l'equazione x al cubo più 6x uguale a 20 allora qua si vede subito proprio a occhio sostituendo che 2 è una soluzione allora la formula di Tartaglia dà l'espressione che vedete cioè radice terza di 10 più radice di 108 meno radice terza di meno 10 più radice di 108 allora adesso noi con un conticino possiamo facilmente verificare che il primo radicale è uguale a radice di 3 più 1 il secondo radice di 3 meno 1 quindi facciamo la differenza e troviamo 2 quindi una delle cose che Cardano chiedeva a Tartaglia è ma questa formula che tu hai trovato si ci dà la soluzione ma è espressa in una maniera che non riusciamo a riconoscere la soluzione anche quando sappiamo che si tratta di un numero naturale e quindi sia Tartaglia sia Cardano cercano delle regole anche per esprimere questi radicali cubici doppi in una forma trattabile che permette poi di risalire a soluzioni in maniera più semplice ecco allora il caso irriducibile e appunto nella formula di Tartaglia compaiono queste radici sofistiche le chiamavano così e anche appunto nei casi in cui l'equazione ha addirittura tre soluzioni reali e Cardano cerca di percorrere due strade nell'Arsmagna da una parte prova a manipolare formalmente le espressioni trovate e in un qualche modo così anticipando un pochino i numeri complessi le unità immaginarie però non è capace non riesce a farlo in particolare lui cerca di costruire un'aritmetica per queste quantità però si scontra col problema di attribuire dei segni i giusti segni a queste quantità ai loro prodotti e si rivolge anche in un'altra direzione quella di trovare soluzioni alternative cioè sapendo che ci sono quindi formule alternative e questo continua a farlo anche dopo aver pubblicato l'Arsmagna un libro successivo da regola Alisa dovrebbe voler dire il caso irrisolto o irrisolubili però insomma non arriva a una soluzione in effetti fu poi Paolo Ruffini alla fine del settecento il primo a dimostrare che non è possibile trovare una formula per radicali che eviti la comparsa dei numeri complessi nel caso irriducibile quindi non si poteva trovare per radicali ecco invece questo lavoro iniziato da Cardano viene portato avanti da Raffaele Bombelli nella sua opera L'algebra che ebbe due edizioni la prima nel 1550 la seconda nel 1572 quindi non molti anni dopo questi fatti e in effetti Bombelli e Cardano ebbero anche una corrispondenza allora prima di di terminare poi con Bombelli in termini moderni se noi adesso lavoriamo con i numeri complessi che ormai poi li conosciamo e abbiamo un'equazione di terzo grado a coefficienti in c del tutto generale innanzitutto come già faceva Cardano possiamo fare un cambio di variabili e ricondurci a un'equazione depressa cioè senza il termine di secondo grado il che vuol dire semplicemente ricondursi al caso in cui la somma delle radici è uguale a zero il coefficiente di x quadrato è la somma delle radici poi si usa procedere come nella seconda formula di Tartaglia ponendo quindi cercando soluzioni esprimibili come una somma u più v con la condizione che u v sia uguale a meno pi terzi e poi si arriva a a dover estrarre due radici cubiche radice cubica di a dove a è quello scritto qua è radice cubica di b ecco solo che adesso noi sappiamo che in realtà ci sono tre radici cubiche complesse per ciascuno dei due numeri a e b e quindi in principio avremmo nove soluzioni quindi se ne prendiamo una di queste radici radice di a e la chiamiamo 1 poi ci sono anche 1 per epsilon e 1 per epsilon quadro dove epsilon è una radice cubica primitiva dell'unità è la stessa cosa per b quindi in principio combinando queste questi sei valori potremmo trovare nove soluzioni che invece non è perché dobbiamo ricordare che deve valere che il prodotto u i per v j deve essere uguale a meno pi terzi quindi alla fine diciamo uno può fissare un primo u 1 rimane determinato un v 1 e poi le altre due soluzioni si possono scrivere nella maniera che vedete allora dopo aver scritto in questo modo le tre soluzioni allora facilmente si può andare a esaminare il discriminante e dimostrare senza difficoltà che se il discriminante è questo è maggiore strettamente di zero questo è un piccolo misprint allora l'equazione ha certamente una soluzione reale e due soluzioni complesse coniugate se il discriminante è negativo vi sono tre soluzioni reali se delta è uguale a zero allora in quel caso a e b sono uguali reali e l'equazione ha radici tutte reali di cui almeno una con molteplicità due quindi o due o tutte e tre eventualmente coincidenti quindi la situazione è molto chiara cioè se il discriminante è negativo è proprio il caso in cui tutte le soluzioni sono reali eventualmente negative ma insomma comunque reali e mentre invece è proprio il caso in cui il discriminante è positivo quello in cui di radice reale ce n'è una soltanto ecco allora nell'algebra cosa fa Raffaele Bombelli dunque intanto la cosa interessante è che tra le due edizioni dell'algebra quella del 1550 e quella del 1572 Bombelli scopre a Roma nelle biblioteche vaticane l'aritmetica di Diofanto che era scritta in greco non era mai stata tradotta quindi non era molto conosciuta e la traduce in latino e quindi appunto nella seconda versione dell'algebra Bombelli raccoglie i contributi dati nella prima metà del Cinquecento alla risoluzione delle equazioni fino al quarto grado dalla scuola bolognese quindi scuola bolognese a cominciare da Scipione del Ferro e poi anche riporta chiaramente anche i contributi di Cardano e in quest'opera Bombelli analizza in maniera molto dettagliata adesso qua poi ho riportato proprio alcuni passi del libro di Franci Totirigatelli storia della risoluzione delle equazioni algebrica e quindi analizza la struttura di un corpo aritmetico che contiene irrazionalità quadratiche e cubiche quindi un insieme di numeri in cui vengano aggiunti ai numeri interi e razionali anche radici quadrate e radici cubiche e osserva che l'aggiunta di irrazionali quadratici è sufficiente per risolvere le equazioni di secondo grado mentre per le equazioni di terzo grado sono necessari questi irrazionali cubici e bisogna anche aggiungere quelle particolari irrazionalità cubiche che si presentano nel caso irriducibile e quindi Bombelli riconosce la necessità di aggiungere nuovi numeri che in seguito in realtà da Cartesio furono detti immaginari adatti a rappresentare queste radici e ne stabilì le regole formali di calcolo quindi Bombelli introduce non tanto l'unità immaginaria quanto dei nuovi segni che chiama più di meno che sarebbe il segno di radice di meno uno meno di meno il suo opposto e dà le regole di moltiplicazione cioè sostanzialmente Bombelli scrive la tabellina di moltiplicazione per il gruppo delle unità del campo complesso quindi uno meno uno i e meno i e insomma dà le regole per operare con questi numeri e stabilisce che i numeri complessi che vanno sommati nella formula risolutiva di Bombelli che abbiamo visto sono numeri coniugati lui li chiama congiunti e che quindi si cancellano e danno luogo alle soluzioni reali un'altra cosa interessante che fa Bombelli è descrivere due macchine che furono chiamate gli squadri del Bombelli che servono a dimostrare loro dicono in superficie piana cioè sul piano geometricamente l'esistenza di una soluzione per un'equazione cubica del tipo depresso nei due nei due tipi quindi Bombelli prima diciamo dà questa dimostrazione geometrica per continuità con un argomento per continuità del fatto che ci sono soluzioni e poi questo in qualche modo giustifica la validità della formula che fa intervenire queste nuove quantità che non erano fino a quel momento state considerate un'altra cosa che fa Bombelli è dimostrare l'equivalenza del problema della trisezione dell'angolo con riga e compasso con quello del caso irriducibile dell'equazione cubica cioè la costruzione con risga e compasso della soluzione o delle soluzioni di un'equazione di terzo grado è equivalente al problema della trisezione dell'angolo e quindi come sappiamo poi non è possibile ecco ultima osservazione Bombelli introduce e studia i numeri complessi al fine di risolvere le equazioni di terzo grado cioè non tanto come numeri che abbiano un interesse in sé ma come strumento per risolvere equazioni di terzo grado allora Enrico Giusti nel nel suo libro sulla come si chiama sulla natura degli oggetti matematici non riconosce a Bombelli diciamo la paternità dell'introduzione di questo nuovo oggetto dei numeri complessi perché la loro introduzione in Bombelli è diciamo puramente strumentale alla risoluzione delle equazioni di terzo grado cioè non li studia perché siano interessanti in sé e non ne dà altre applicazioni ecco però tuttavia allora adesso per concludere voglio citare questo un po' scritto in piccolo quello che che scriveva Giorgio Bagni che dice ma tutto ciò non ci consente di liquidare la posizione bombelliana come un espediente tecnico per completare le tecniche messe a punto da Delferro Cardano e Tartaglia l'introduzione formale dell'unità immaginaria che troviamo nell'algebra deve essere considerata non solo efficace ma anche particolarmente moderna Bombelli agisce da matematico quando accetta di considerare la quantità più di meno e meno di meno alla stregua di numeri egli sa di non poter considerare tali quantità come reali ma non rinuncia ad utilizzarle in chiave astratta e si mostra consapevole di ciò quando fissa esplicitamente le regole per la loro moltiplicazione Burbacchi nota che Bombelli considera i numeri complessi come combinazioni lineari a coefficienti positivi di quattro elementi di base in particolare gli pone come assioma che più e più di meno non si addizionino prima apparizione questa dell'indipendenza lineare dunque Burbacchi ricorda che alcune pagine dopo la prima introduzione di più di meno e meno di meno il matematico bolognese fa riferimento anche ad altre operazioni con le nuove entità in particolare Bombelli afferma l'impossibilità di addizionare numeri reali ed immaginari nel passo seguente che adesso non leggo e quindi possiamo affermare con Ettore Bortolotti che Bombelli fissa la propria aritmetica su di un vero e proprio sistema di proposizioni primitive dando così prova di straordinaria lucidità e modernità ecco con questo vi ringrazio grazie